Ciao amici, eccoci a un nuovo capitolo delle videoconsulenze. Mi raccomando, mandatemi le vostre video domande al numero che vedete in sovraimpressione e io le pubblicherò insieme alla mia video risposta su questo stesso canale. Ah, non dimenticate di dire la parola magica, questa è la legge. Buonasera avvocato, avrei una questione da sottoporle in merito alle forze dell'ordine. Ultimamente si è letto spesso che comunque vengono date multe a destra e manca senza un minimo di buonsenso. Vedi il caso dei due fidanzati che si scambiavano in fusione a Milano oppure la multa senza tetto, insomma multe che vengono date esclusivamente per fare cassa senza un minimo di buonsenso. Volevo chiederle se c'è una forma di tutela per il cittadino in questi casi. Nel senso, io mi ricordo che lei in uno dei suoi video aveva detto, se non ricordo male, che l'agente di polizia non ha l'obbligo di identificazione nei confronti del cittadino. Però se per caso l'agente di polizia solo per fare cassa con le multe dovesse ad esempio inventarsi che non c'era la distanza di un metro tra me e la persona quando invece la distanza c'era, e lui comunque nel verbale mi contesta il fatto che non c'era la distanza, come posso difendermi in questi casi? L'unica possibilità è davvero pagare un ricorso e rischiare pure di perderlo. Poi volevo chiedere se ci sono casi in cui l'agente di polizia magari mi può trattare in modo sgarbato, addirittura insultare, come difendersi in questi casi? Grazie mille, questa è la legge. Il poliziotto è un pubblico ufficiale e la sua parola vale più di quella del cittadino. Si presume infatti che quanto da lui visto e percepito con i sensi faccia piena prova. Ma questo non vuol dire che non si possa mai sconfessare la parola di un agente di polizia. Innanzitutto è sempre possibile contestare la veridicità delle dichiarazioni di un agente con un apposito procedimento civile che va sotto il nome di querela di falso. Dovrai munirti di valide prove però che facciano ritenere al giudice che la percezione del poliziotto sia viziata, ossia interessata da un errore. Non è una cosa facile ma neanche impossibile. In pratica devi prima impugnare la sanzione che la polizia ti ha combinato e poi proporre questo procedimento nel procedimento con il tuo avvocato. Ti costerà molto di più e quindi ne deve valere la pena. In secondo luogo, non tutto ciò che dichiara il poliziotto nel verbale fa piena prova. Solo ciò che è frutto di una sua percezione diretta a valore legale. Pensa al fatto che un poliziotto ti abbia visto superare in curva o attraversare l'incrocio al rosso. È qualcosa che ha visto con i suoi stessi occhi. Quando invece in gioco c'è una valutazione del poliziotto frutto di una sua elaborazione personale allora le sue dichiarazioni non fanno più piena prova e possono essere sconfessate anche senza la querela di falso. Pensa al caso di una multa per eccesso di velocità fatta però senza autovelox ma sulla base della semplice sensazione del poliziotto che ti ha visto sfrecciare. Alla luce di ciò puoi sempre contestare le dichiarazioni dell'agente di polizia ma come ti ho detto tutto dipende se si tratta di dichiarazioni di fatti da lui stesso percepiti con i suoi sensi come la vista e l'udito nel qual caso devi prima proporre il procedimento di querela di falso oppure da lui solo valutati nel qual caso potrai limitarti a contestare la sanzione senza bisogno della querela di falso avvalendoti di semplici prove. Vediamo ora quando denunciare un poliziotto. In qualità di pubblico ufficiale il poliziotto può essere denunciato per il reato di abuso di atti di ufficio ma ciò succede solo quando viola una norma di legge facendo una preferenza ingiustificata a favore di un amico o di un parente e danneggiando un altro cittadino oppure trasgredisce una norma prevista dal regolamento o da qualche altro atto equipollente nella scala gerarchica delle fronti del diritto oppure viola l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un parente. Il reato scatta nel momento in cui una delle condotte che ho appena elencato creano al poliziotto un vantaggio ingiusto o provocano un danno ingiusto al cittadino. Se secondo te un agente delle forze dell'ordine ha commesso il reato di abuso di atti di ufficio puoi denunciarlo rivolgendoti all'organo competente possibilmente in un ufficio diverso da quello in cui presta servizio la persona che vuoi denunciare. Quindi puoi recarti in polizia o i carabinieri oppure presso la procura della Repubblica. La denuncia va fatta per iscritto oppure in modo verbale portando delle prove a sostegno di ciò che dici. Considera che il reato è perseguibile d'ufficio quindi non hai un limite di tempo massimo per presentare la denuncia. Il poliziotto rischia da 1 a 4 anni di reclusioni con pena aumentata se il vantaggio da lui ottenuto è particolarmente notevole. Ok amici abbiamo terminato anche per oggi vi ricordo ancora una volta il numero a cui mandare le vostre video domande e questa è la legge.